secondo lei c'era qualcosa che avrei potuto fare eravate esposti noi eravamo lì come comandante della marina imperiale giapponese era mio dovere uccidervi ma come uomo o dei rimpianti aveva un'idea chiara di quello che trasportavamo anche io ho fatto il mio dovere ma come uomo io non ci trovo nessun onore io spesso mi chiedo come sarebbe andata se l'avessi fermata prima che completasse la missione finora abbiamo imparato a perdonarci come ex avversari può darsi che un giorno riusciremo a perdonarci come uomini e se volete a perdonare